La legge sull'Aquila capoluogo è incostituzionale. A San Cirlo è stata la Corte Costituzionale che dunque ha bocciato in toto la norma varata dal Consiglio regionale abruzzese il 24 di agosto del 2018. Secondo i giudici della consulta, l'intero articolato della legge sulla ricostruzione dell'Aquila è incostituzionale perché esprime una mera ipotesi politica la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica seguendo il principio espresso nell'articolo 81 della Costituzione secondo il quale sono incostituzionali le leggi prive della necessaria copertura economico-finanziaria. Si tratta, sottolinea l'ufficio stampa della consulta, di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie a fronteggiare gli interventi nessi contenuti. La consulta ha affermato che il principio della copertura trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza di evitare leggi proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori. Nella legge per l'Aquila capoluogo, Regione Abruzzo aveva previsto per il bienio 2018-2020 785 mila euro di coperture corrispondenti allo 0,5% degli introiti dal bollo auto. Oltre all'Aquila la legge interessava i comuni di Barete, Barisciano, Cagnano, Miterno, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Torni in parte e Poggio Picenze.